Questa puntata per due motivi, un po' perché Gian Russo l'ha molto evocata per il tweet sui navigator che dice che lei li ha insultati, ha detto che sono scappati di casa, però se ho capito bene si è scusato, vero? Certo, mi sono scusato, quello che volevo dire e che ho detto male è che tu non puoi mettere 3.000 persone che non hanno mai lavorato a cercare lavoro per altre persone perché quello che succede è quello che è successo, cioè che non li hanno trovati questi lavori e costano ai contribuenti che sono operai, pensionati eccetera 100 milioni di euro l'anno e dunque penso che sia un sistema sbagliato, però non si può dire di un gruppo di persone che non conosci che sono degli scappati di casa perché è un modo per insultarli e dunque mi sono pubblicamente scusato non che io abbia mai sentito Gian Russo scusarsi per i milioni di insulti che ha mandato verso tutto l'universo Io sono una grande fan delle scuse perché gli uomini veri, al contrario di Fonzi, sanno scusarsi Sanno scusarsi, esatto